Bentornati! Questo sarà un breve video di aggiornamento fatto alla mia maniera, ovvero con il mio amico meravigliosso che va a uccidere qualche boss di Dark Souls. Oggi l'update è assolutamente semplicissimo, ovvero vado in vacanza! E nel luogo dove andrò in vacanza non avrò modo né di fare video né di caricarli. Di conseguenza, ecco come andranno le prossime settimane. Questa settimana pubblicherò un episodio di System Shock Infinite e ovviamente la conclusione di Halo. Prima di partire mi assicurerò di pubblicare anche un altro episodio di System Shock Infinite. Quando tornerò dalle vacanze, che potrebbe essere sicuramente dopo Ferragosto, ricominceranno alcune pubblicazioni un po' più randomiche. E poi da settembre riprenderà tutto con regolarità. In particolare ci tengo a pubblicare ancora due episodi di System Shock Infinite, perché l'otto è l'ultimo che ho registrato prima di cominciare a pubblicarli. Dal nove infatti si potranno cominciare a vedere anche i frutti dei vostri consigli e del vostro feedback. È la prima volta che faccio un let's play normale ed è anche logico che non avendo esperienza ci sono tante cose che andrebbero modificate. E poi ci tenevo a far vedere questo particolare scontro contro Culla del Caos, perché sono rimasto sorpreso di aver trovato ancora gente che si fa evocare ad Izalith. Insomma, sono riuscito per la prima volta, peraltro, ad andare a sconfiggere la Culla del Caos in modalità cooperativa. E ce l'ho fatta anche a primo colpo, molto soddisfacente. E questo appunto è tutto. Vi auguro di passare una buona estate e mi mancherete. Non vedo l'ora di tornare in azione e... che dire, io sono Unpetrackable e ci vediamo nel futuro. Grazie a tutti.